C'è solo un'auto che può competere con il design, la potenza e l'agilità di Volvo S60. Un'altra Volvo S60. Motori diesel e benzina fino a 250 cavalli. Oggi con trazione integrale intelligente AVT. Volvo S60. Mirate in alto. Guarda questa! Ehi, guarda chi c'è! Vai, vai, vai! Mettate lui! Venga scatto! Ehi, però! Ehi, vieni a vedere! Dai, che la mando aggiornare! Sì! Entra nel mondo degli MMS Team, regalati nuovi telefonini con fotocamera a partire da soli 399 euro. Ho deciso, a 30 anni, voglio vedere rinascere la mia pelle in soli 8 giorni. La ricerca L'Oreal presenta Visible Results, la prima crema giorno perfezionatrice della pelle all'Activa Cell, per stimolare la riparazione naturale della pelle. I risultati? Visibili! Primo giorno, pelle vellutata e idratata. Quinto giorno, grana della pelle affinata. Ottavo giorno, meno rughe. In 8 giorni, la pelle rinasce. Nuovo Visible Results, l'Activa Cell dell'Oreal Paris. Una rivoluzione che vedo, perché voi valete. Juliette ha un piccolo segreto, ricco di magia. L'attesa non si inganna, si gusta. Ci vuole poco per far sorridere. Questo è il segreto di Juliette. Ferrero Rocher, ogni giorno una magica bontà. Scopri il piacere della pausa. Suado, buono per la mente. Mulino bianco, mangia sano e vivi meglio. Quando il colore è così ricco, il motivo è uno solo. Garnier Nathéa è diventato Garnier Nutris, la colorazione permanente che nutre i capelli con oli di frutti. Nutris è così ricco che i rossi sono più intensi, i biondi più splendenti e nessun capello bianco. Garnier Nutris, un colore assolutamente più ricco. Garnier. La nuova Hyundai Get ha tanto spazio per la testa e per le gambe. Infatti è così spaziosa che può contenere un dinosauro intero. Nuova Hyundai Get, misurata fuori, smisurata dentro. Da 8.950 euro. Come dicevo, l'Italia ci guarda, grazie. Ma hai già dato un bacio con la lingua, diciamo, a diciotanea. L'hai già dato? L'hai già dato. Ma lei è un mascalzone. Sì, esattamente, sono mascalzone. Eva Engel, eccola. Sono l'unico laico e anticlericale e ateo in Italia. Suor Paola. Buonasera. Hai mai dato una botte via? Ciero Pianfetti. Buonasera, buonasera. Benvenuti nel mondo di Escalibur. Esistono più cose in cielo e in terra di quante ne esalmino le nostre filosofie. Abbiamo cose importanti da raccontarvi. Ci vediamo giovedì alle ore 21 su Rai 2. Buonasera, 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 bu